Tu sei sempre educato a favore degli altri. No, no, non è... Sì, vabbè, non è a favore degli altri. Sei sempre educato... Tutto quel che vuoi. Vado da loro? No, stai fermo un secondo. Tu sei sempre educato a favore degli altri. Voglio che tu sia egoista per una volta. No, non ce la fai. Non ce la fai. Come faccio ad essere egoista? Cioè, non me l'aspettavo perché più che altro... Cioè, come faccio nemmeno a giustificarmi? Non so, a lui non sono andato bene all'inizio perché vabbè ho avuto a Rudy. No, a Rudy sei... No, sono andato a un storto perché poi non ero vero, avevo una maschera, tutte cagate per me. Vabbè. Se devo essere egoista, in questo modo qua. Sono uscito per ultimo con l'inedito e quindi è andato male. Ci sta, vabbè. Ci sono successe un po' di cose che mi sono andate malino. Però non mi aspettavo di uscire. Beh, nemmeno io, secondo me. Ok, vuoi... Voglio salutare anche loro dopo. Sì, saluto Lorelle, grazie. È stato bellissimo.